Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono le 4 di mattina, ho un sonno pazzesco e non è che sono vestita, è che Lisa mi sono dimenticata il pigiama e questo intanto è a comodo per dormire, non dormire può cambiare niente, la partenza è prevista per le 5 però mi devo svegliare nel frattempo, quindi ci vediamo dopo, non lo voglio neanche fare intanto ok, mi sono finito di cambiare, sono le 4 e mezza, quindi potevo dormire ancora, ma va bene ho fatto questo trucco, molto molto leggero, a parte il rossetto che probabilmente se ne andrà non importa, ho messo gli ricchini al cubaleno coda e per l'outfit, prima questa maglietta che ho la schiena scoperta ma fa freddo qua, sono sulla riva fredda e a questo la fa freddo pantaloni lunghi e zempe nefante e ci ho fatto col gattino, ma non importa e poi questa giacchetta perché appunto fa ancora freddo e poi niente, in realtà avrò anche il cappello, quello di paglia e un foulard perché probabilmente poi più tardi fa più caldo, specie in Spagna quindi niente però andremo anche sia sulle Alpi che sui Pirenei quindi questo servirà decisamente e niente ora vado giù a vedere se hanno bisogno di una mano o di sicuro si sono svegliati perché si stanno muovendo sembra che sia andato giù a schienare e vabbè potrei dirlo due secondi dopo che proprio appena ho attaccato la camera tu hai finito la frase sono tipo l'undici venti siamo a neanche 200 km più o meno niente, siamo stati molto più veloci del previsto e tempo qua però mangieremo e poi andremo in Natale e siamo in Francia ho dormito passa un aereo giusto ho dormito prima in macchina però per tre volte in ogni appena mi senti addormentare fermiamoci, camminiamo vieni e niente non so se si è da qui guarda l'aereo vabbè come dire c'è l'opposta 12 e 16 stiamo ripartendo poi i bagni sono ultra tecnologici anzi non tanto tecnologici strani stranissimi i lavandini bagnano sempre tutto comunque niente stiamo ripartendo e ho sonno adesso mi due volte alla pesca così ho il botto glicemico e poi dormo 6 ore no? vai vi dico niente addio ok manca tipo una mezz'ora al confine e c'è un botto di traffico mia nonna si sta cambiando e io sono mezz'ora mi annoio mi annoio ok se sentite il rumore perché sono sul balcane sto cercando i sistemi compiti nonni quello dalla internet io mi sono gioco legata siamo arrivati in albergo ok lo so che sembra una macchina assoluto veloce comunque ho già sistemato tutto l'armadio ecc la cena è tardi perché sono solo il 4,43 quindi sono solo cambiate tipo gonna lunga e cose ma molto leggeri perché non la voglia di scendere la cosa bella qua è che non dobbiamo prendere le problemi e la cuffia e niente vi farò vedere dopo allora questo è un video speciale come avete visto perché è uscito alla fine domenica ma è anche una mania perché gli scusa che il sabato non è uscito il video fiava perché ieri alla fine avevo dimenticato i tevra casa mi è arrivata alle 11 e mezza e stavo già dormendo e adesso non ce lo faccio mi chiamo a te perché se mi smette a ascoltare una fiava dormo e quindi niente adesso monto questo video show vai di carta tranquilli domani cioè lunedì uscirà i video sulla mia prima giornata cioè domani domenica registro tutto quello che faccio e niente al prossimo video